Buonasera, siamo qua davanti a un piatto di pesce dalle luculliane dimensioni. Che cosa abbiamo qua, Luci? Una patata, vedo. Abbiamo una patata, con il titolo della salsa, secondo me, con il petriolo. Bene, su. E poi uno spedino di gamberetti. Che va a me, poi? No, no. A te, volte, dopo sei scampi qua, perché mi sembra non lì. Le mamme vogliono bene i loro figli, con una sola eccezione, si chiama Lucilla Gennari. Volevo farvi vedere il mio piatto. Questo che vedete qua, è circa metà del piatto che mi hanno dato. L'altra metà è qua, di supporto. Io credo fosse una patata ripiena, invece è una patata solo coperta, un po'. Ah, io ho cappella. E questa, vedete, tre pezzi di maiale. Aspetta che ho quasi finito, eh. Cheese dumpling, lo spazzle e ovviamente onion ring, che ve ne mangio uno davanti agli occhi. Ah, non vuoi, insomma. Luci, abbiamo qua delle cotte, salmone, caffe, gamberetti che sembrano lessi. Insomma, mocha droba, sei felice? Felice. Ci rivediamo quando abbiamo finito tutto, forse.